Buonasera, io sono la velina di Marziano e come tutte le veline non faccio un cazzo, ok? Però, come mi consiglia lui, sono il prossimo sottosegretario ai Pinteri. Dotatemi dell'Azunca Moscarillo. Romantico! Ma ne la carriamo dentro a questa! I'm in sensitivity, I must be where she say does she love me. Professor � oyn Geoff andro Bruno Quaś io sono amic Pescia, pescia, pescia Pescia, pescia, pescia Pezza, pescia Chi vuoi pescere, vuoi pescere, oh war bavere tra pesce da bevere, tra pesce da bevere, che preferiresti, tra pesce da bevere, che preferiresti, che vorresti, pesce da bevere, pesce da bevere, pesce da bevere, pesce da bevere, dipendenze alcolico, se su anti, non penso che me ne uscirò, pesce, 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 pes Potremmo bevere un po' un martini, un bellini, un bocchini, per piacere bevere, per piacere bevere, per piacere bevere, per piacere bevere, di tendenza alcolico, se stu'anti, non penso che me ne uscirò. Di tendenza alcolico, se stu'anti, non penso che ci riuscirò. Oppure, male che va, ti fai l'abbonamento a Sky. E se ti abboni a Sky entro novembre, hai in omaggio la laurea in lettere moderne. Aspettate. Ma c'è una roma, non è che si... Ora, cominciamo a fa' formigoni, eh. E' il DMT3. Capo, è forse la marota. Io le dobbiamo di pur sta' la casa e ti sentire un coppagno. E finivamo con tutta questa raguolella di alimentarla. Allora, come faccio a leggere? Mi faccio? Come ragazze faccio? Comunque le avrei scintate, dice. Allora, io mi sto usurrando come non vuole. Come al senatore di Gregonia per l'Italia del mondo dei valori. Allora, si sente qua? Oh, la chitarra si sente? Ehi! C'è, non c'è la voce. Adesso facciamo un pezzo che parla di un problema che caro a tutti noi giovani. No, voglio non esagerare, ma non chiacchia, mica a tutti noi giovani. Diciamo a un 5%. Il resto si arrangia da solo. È un pezzo che mi ha suggerito il Fino. Signori, facciamo un applauso al Fino. Mi ha chiamato prima e stava a casa e ho detto Fino, ma non vieni. No, no, perché capito? Io venivo poi, capito? Non so, che pensate? C'è venuto un attacchio di panica. E ti ti mostro? Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. E la vita che ha cominciato a dirmi fa un le tasse e tu li che te la fai. E quindi era indeciso fremmenire, appiccicarsi con i Folletto e il Pesci in mano. Adesso è arrivato a casa. Però, quest'estate, che è stata una lunga, triste e calda estate, soprattutto perché... Come? Come è stato? Brava! Buca più buca. Ho addirittura chiamato quest'estate. Con una femmina. Iva. Ma tiene l'amministrazione. Vai l'altro. Diceva il Fino quest'estate, ha detto, facciamo una piezza. Ha detto, Fino, facciamo una piezza. L'ultimo pezzo che avevamo fatto era... Era esatto. No, prima ne avevo fatto un altro, lo volete sentire? No, senza che dire no, perché l'altra volta... Perché gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, gli altri, finalmente, non li stagliate, non li hai fatto più. Ma c'è la parola, non li ho parito. Lui mi ha tornato le buone. L'altra volta non li hai fatto pezzi. Poi cassa hanno 40 piezzi. Noi facciamo tutte e 40. La parola. Ladies and gentlemen. Signori e signori. Enzo Pellegrino da Stress. Di dotte. La trasmissione che noi giovani abbiamo quasi più della droga. Ed eccolo un altro personaggio molto caratteristico del show che va al di là di Gianfranco Marziano. Il nostro Lorenzo, buonasera. Buonasera a te. Abbiamo appena visto Gianfranco. Io direi che è adorabile. Ma al di là del fatto quello show praticamente sul motorino. Mi capite non è un po' risentito. È venuto in mente a te quella straordinaria idea di fare lo show sul motorino? No, per dire la verità io lo voglio andare a prendere con il motorino, non devo evitare che ci fosse traffico per la strada. Però Pellegrino dice facciamoci pure sta trovata ed è stata divertente la cosa. È sempre Pellegrino. Giustamente è il suo mestiere. Ma anche questo che vuole fare su Pellegrino? Niente. Bisogna dire che tu sei l'unico che ogni anno sceglie Marziano. Sei l'unico a fare Marziano. Ma diciamo che è Marziano che sceglie me e dice facciamo sta cosa. Io cerco di incitarlo un po'. Ti trova molto nel suo essere? Siamo leggermente amici. Non leggermente, siamo amici. È Marziano. Lui ha fiducia in me. Allora non lo paghi. E perché? Per quanto è un amico? Allora diciamo che sono amico. E sai che ti prende in giro? No, figurati. Volete sapere una cosa? Ci voleva lui adesso. Volete sapere una cosa? Mi la verità. Ci hanno rubato tutti i soldi della prevendita. Ecco, bene. Sicuro non lo pagherà anche volendo. No, lo pagheremo ugualmente. Non c'è problema. Perché lui merita. La cosa è stata molto soddisfacente. Giustamente sarebbe stato più opportuno farla nell'arena come l'anno scorso all'aperto. Però non si immaginava che arrivasse questo caldo. Dopo due settimane di pioggia. Di pioggia. Vabbè, la gente però ugualmente non se ne frega. Cioè Marziano è Marziano. Sta seduta. E ci piace anche la sauna. Ci piace. Ma anche con la sauna è bello. Tu hai fatto male l'amore e sudi. Ti fermi quando sudi? No. E allora è la stessa cosa. È un piacere. Tu dici quando sudi? No. Infatti sei sudato. Ma non ho fatto l'amore. Questo piacere estremo. Sono stato con Marziano. Da cosa hai dovuto? Marziano. Io vorrei ricordare i prossimi.